Perché io solo faccio questa fiera in Italia, è molto importante in fotografia. Mia ci permette di avere un feedback con collezionisti che sono esclusivamente... Questa fiera viene la seconda fiera a Mia, perché questa fiera è molto importante della fotografia contemporanea. Sono venuto in fiera sia come espositore che come utente finale, perché mi piace guardare tutto ciò che succede intorno alla fotografia. Questa è la seconda fiera e siamo molto entusiasti. E' un'unica spazio.